...molto seri, coscienziosi che hanno voglia di studiare e hanno bisogno di queste strutture. Quindi grazie per aver scelto l'università, grazie per aver scelto gli studenti e un secondo grazie per i 4.000 metri quadri di parcheggi che in una città come è stato ce l'aveva il centro storico. Oggi il centro storico ha trasferito tutte le difficoltà, le criticità in periferia e quindi avere i parcheggi oggi è qualcosa di utile. Anche credo per voi, anche qui per quello che vedo perché qui intorno, tra scuole... ...in una città che è stata così provata ma a livello proprio studentesco lo trovo molto legato alla nostra associazione. Quindi speriamo che... L'idea che non c'è definito, lo dico prima di firmare, ma così perché sono sempre... È giusto che sia molto attenta, c'è solamente il terrore di fare anche qualunque cosa perché tra due anni ti puoi ritrovare senza aver fatto nulla di male magari per una questione che potessi interpretare in un modo o nell'altro può essere problemi in quale le cose sono chiare... Brava, ecco sì, ecco bene. Si vede dalla mia... Io dopo vado a vedere dove è questo posto... ...viene lì e vediamo, quindi faccio vedere. Qui da che sopra si vede benissimo, per cui quando vado alle giunte facciamo una settimana... Ecco, basta. Diciamo che non è il problema alla giunta, abbiamo sempre trovato le difficoltà nelle fasi esecutive, ma speriamo che le fasi esecutive... ...questo è perché è una donazione, come stava dicendo, una donazione utile e importante... non c'era niente di attrattivo se non la presenza di qualche computer che poteva essere stimolato.